Si sta parlando tanto della repressione delle varie manifestazioni che stanno avvenendo in Iran per l'uccisione di Masha Amini. Questa notizia è stata condivisa su tutti i media occidentali, trovando lo sdegno di tutti i paesi occidentali. Ed è giusto che sia così. Ma ciò che la stampa non dice, e ciò che i giornalisti negazionisti occidentali non dicono, che la stessa repressione avviene anche nei paesi amici dell'America, come l'Arabia Saudita, dove c'è un altissimo numero di condanne a morte, dove 81 persone a marzo di quest'anno sono state giustiziate, non tenendo conto di giovani, donne, bambini, anziani. Una vera pulizia etnica delle minoranze sciite, solo per aver manifestato il loro pensiero diverso, differente da quello del regime, per una religione diversa, per idee politiche diverse, solo per aver manifestato queste condannate a morte e giustiziate. Ma tutto questo, i pennivendoli occidentali, la carta stampata occidentale, i mainstream occidentali, non danno notizie. E gli unici a dare queste notizie sono solo Amnesty International e insieme siamo origine.